Allenamento veloce per l'interno coscia senza salti, un'ottima sessione da abbinare ad altri workout. Buon allenamento! Iniziamo! Slancio frontale alternato, mano al piede opposto, chiudi il corpo quando fai lo slancio, movimento preciso, sali, tocca la punta, sali, tocca la punta, vai, vai, 5, 4, 3, 2, 1, cambio, posizione di mezzo squat, spingi sulla gamba sinistra quando scendi, talone bene appoggiato a terra e slancia, vai, scendi, slancia, scendi, slancia, mezzo squat, mani sui fianchi, vai, 5, 4, 3, 2, 1, cambia, ora spingi sull'altra gamba, vai, Quando scendi mantieni il bacino arretrato, dietro, sali, spingi, vai, slancia, vai, slancia, braccia sui fianchi, mezzo squat e slancia, 5, 4, 3, 2, 1, ok, step touch, approfitta per respirare, recupera, 5, 4, 3, 2, 1, cambio, affondo laterale e mano al piede opposto, non sbilanciarti in avanti, movimento costante e controllato, piega il ginocchio, tocca la punta, braccio dietro, vai, 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 Prendi aria su, butta fuori l'aria quando vai giù, tocca la punta, 10 secondi, mantieni il ritmo, vai, 5, 4, 3, 2, 1, cambio, spostamento laterale verso destra, passo ampio, movimento preciso e controllato, Braccio in avanti per mantenere l'equilibrio, addome contratto, passo ampio, scendo e spingo, vai, vai, 15 secondi, mantieni il ritmo, passo ampio, scendo e spingo, 5, 4, 3, 2, 1, cambio a lato, A sinistra, stesso esercizio di prima, falo piano, spingi bene con la gamba sinistra per tornare in posizione, allungo, scendo e spingo, allungo, scendo, spingo, braccia in avanti per l'equilibrio, addome contratto, respirazione attiva, 10 secondi, non ti fermare, vai, giù, sali, 5, 4, 3, 2, 1, ok, Step touch, recupera, respira, 5, 4, 3, 2, 1, ok, distensione braccia, gambe destra, affondo laterale destro e porta la mano sopra la testa, vai, passo ampio, braccio sopra la testa, il ginocchio non supera la punta del piede, Allunga e slancio, allunga e salgo, 10 secondi, mantieni il ritmo, vai, 5, 4, 3, 2, 1, cambio lato, stesso esercizio verso sinistra, spingi bene sulla gamba sinistra, L'apertura delle gambe è ampia, braccio sopra la testa, addome contratto, respira, respira, allunga e braccio sopra la testa, vai, vai, 5, 4, 3, 2, 1, ok, Step touch, respira, riprendi fiato, 5, 4, 3, 2, 1, ora, gambe divaricate e discesa verso il tallone, scendi bene e non andare veloce, Movimento controllato, usa le mani per bilanciare il corpo, tieni il bacino arretrato, piega il ginocchio, vai giù e tocchi la punta, L'altro braccio va dietro, vai, vai, 10 secondi, mantieni il ritmo, vai, 5, 4, 3, 2, 1, cambio, passo incrociato all'indietro, Porta le braccia in avanti, per non perdere l'equilibrio, vai, mantieni un buon ritmo, Gamba dietro, braccia in avanti, sincronizza il movimento, 10 secondi, vai, 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 allunga, allunga, 5, 4, 3, 2, 1, step touch, respira, approfitta per recuperare, 5, 4, 3, 2, 1, cambio, spostamento laterale a destra, Poi spinge con la gamba, poi spinge con la gamba e riscendi in posizione, vai, vai, segui la velocità del video, Addome sempre contratto, scendi, sali, slancio, mani in avanti per l'equilibrio, 10 secondi, mantieni, vai, vai, 5, 4, 3, 2, 1, cambio, ora sinistra, spostamento laterale, spingi e ritorno in posizione, Lo spostamento è ampio e il ginocchio non deve superare la punta del piede, vai, usa le braccia per bilanciare il corpo, Addome contratto, 15 secondi, respira, vai, vai, 10 secondi, mantieni il ritmo, sali, slancia, 5, 4, 3, 2, 1, ok, step touch, preparati per l'affondo laterale, respira, respira, 3, 2, 1, via, Vai verso destra, movimento lento e controllato, tieni le braccia in avanti per mantenere l'equilibrio, Ginocchio che non supera la punta del piede, addome contratto, allunga il passo, scendi e risali, vai, vai, mantieni, 10 secondi, non ti fermare, scendi e sali, 5, 4, 3, 2, 1, cambia lato, ora verso sinistra, passo ampio e spinge bene con la gamba sinistra per tornare in posizione, vai, vai, 20 secondi, Mantieni il ritmo, scendi, spingi e sali, scendi, spingi e sali, braccia in avanti, addome contratto, respirazione, resisti, non ti fermare, 5, 4, 3, 2, 1, step touch, recupera, respira, 3, 2, 1, cambio, spostamento laterale a destra, poi spinge con la gamba e riscendi in posizione, segui la velocità del video, addome sempre contratto, scendo, salgo, slancio, scendo, salgo, slancio, Mani sui fianchi, respirazione, 4, 3, 2, 1, cambio, cuore a sinistra, spostamento laterale, spingi e ritorni in posizione, lo spostamento è ampio e il ginocchio non deve superare la punta del piede, usa le braccia per bilanciare il corpo, vai, vai, 5, 4, 3, 2, 1, discesa laterale, vai, prima da un lato, poi dall'altro, 25 secondi, movimento fluido, controllato, mantieni l'equilibrio, aiutati con le braccia, destra, sinistra, vai, vai, mantieni la respirazione, 5, 4, 3, 2, 1, ok, gambe divaricate e incroci indietro, fai un passo laterale ampio per cambiare lato, vai, vai, porta le braccia in avanti per non perdere l'equilibrio, 20 secondi, mantieni il ritmo, respira, passo indietro e mani su, vai, 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 10 secondi, non ti fermare, mantieni il passo, 5, 4, 3, 2, 1, distensione braccia, gambe destra, a fondo laterale e porta la mano sopra la testa, vai, il corpo forma una linea, allunghi, braccia sopra la testa, mantieni il ritmo, passo ampio, 4, 3, 2, 1, cambio lato, stesso esercizio verso sinistra, spingi bene sulla gamba sinistra per tornare in posizione, l'apertura delle gambe ampia, braccio sopra la testa, respirazione, addome contratto, vai, 4, 3, 2, 1, via, spostamento laterale verso destra, movimento preciso e controllato, attiviamo bene le gambe, tieni le braccia in avanti per mantenere l'equilibrio, vai, butta fuori l'aria, respira, passo ampio, piego, spingo e salgo, 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 10 secondi, resisti, vai, 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 3, 2, 1, cambia lato, ora verso sinistra, fallo piano, spingi bene con la gamba sinistra per tornare in posizione, allungo, piego, salgo, allungo, piego, salgo, mani in avanti per l'equilibrio, addome contratto, respirazione attiva, non fare l'esercizio in apnea, 10 secondi, vai, 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 5, 4, 3, 2, 1, ok, il tuo allenamento è finito, al prossimo allenamento, vamos!